Il piacere di fare shopping in centro città trovando la vetrina con il cuore. L'iniziativa è dell'associazione Viviamo Milazzo che in concomitanza con le festività natalizie ha presentato il progetto Shopping in Città. L'obiettivo è quello di fare riscoprire il piacere di aiutare cittadini e visitatori a vivere Milazzo in ogni suo aspetto, dalla storia alla cultura al vivere quotidiano. Secondo i componenti dell'associazione ciò che la città offre non può essere paragonabile a nient'altro. Il clima, le bellezze naturalistiche e il mare rendono la lingua di terra milazzese la regina della bellezza. Gli esercizi commerciali associati saranno facilmente riconoscibili ed individuabili attraverso una vetrofania con il cuore, proprio il cuore a simboleggiare la passione dei commercianti nello svolgere il loro lavoro. Il centro città è sicuramente più accogliente, passeggiare per la città, cercare il negozio, guardare mille vetrine diventa sempre più interessante. E' chiaro che poi la città di per sé ha un suo fascino particolare, per cui anche a Natale, soprattutto a Natale, cerchiamo come attività commerciali di dare il meglio e di proporre i prodotti migliori e cercando di attrare più clientela possibile. Questo è un momento particolare non solo per Milazzo e quindi noi come associazione stiamo cercando in tutti i modi di reagire a questo stato di crisi e creare le condizioni affinché la gente possa tornare a Milazzo. I primi risultati ci sono, certamente non è, come dicevo prima, il momento migliore, ma in tutti i modi la città sta rispondendo, i cittadini stanno cercando di entrare nei negozi. Ci auguriamo che questi ultimi giorni siano presi da salto e che veramente le vendite siano, come si dice, alle stelle.